Ci troviamo al campo di Cento Buchi del comune di Monte Prandone, provincia di Salasco di Piceno, gara del torneo 13esimo Piceno Cup. Scenderanno in campo i nostri ragazzi della categoria giovanissimi contro la Terni Est, l'arbitro della sezione AIA di San Benedetto, scusate. Sono emozionato, è la prima volta che i ragazzi nostri escono dall'Abruzzo. C'è il sorteggio del campo, il nostro capitano è il numero 11, Citei di Mata. Ecco, si salutano le due squadre, i ragazzi della Terni Est. Bocca al lupo, ecco la nostra panchina. Bocca al lupo, ragazzi. Grazie. 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 Grazie.